E' la seconda ripresa, si preparano Cardiana e Ciancio. Sotto, 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 sotto. Sotto, sotto, sotto. Sotto, sotto, sotto. Sotto, sotto, sotto. Sotto, sotto. Veloci, sì, potenti, no. Sì, dietro. Veloci, mettoci qua. Fai ripalzare le mani con lo stand. Dai, lascia. Sotto, dietro, sotto. Più, sinistro, sotto. Più, più. E' la passata di su, però, eh. Tre gol, tre gol. Sotto, dietro. In serie, in serie. In serie, hai deciso in serie. Oh, sì. E' la vista. Va bene, bene. Trovi troppo, troppo, troppo. Trovi troppo, troppo. Rimani in movimenti. Fino alla seconda ripresa. Tija. Tija. Grazie.